Allora, Sintra, il dipartimento risoluzionale di Sintra ha strutturato un flusso per la gestione e valutazione degli open farmers e dei propri dipendenti. Il flusso parte dalla somministrazione di due questionari, uno generale sul livello di soddisfazione e l'altro un po' più tecnico sulle competenze possibili da persone. L'estacolazione di tutte le informazioni che traiamo da questi questionari vengono riportate all'interno di dashboard dinamiche che abbiamo elaborato insieme al nostro data analyst per prendere visione dello stato delle valutazioni del singolo dipendente a livello aggregato e a livello macro generale. Si ha la possibilità di vedere lo stato di livello attuale delle competenze possibili dalla persona e capire anche quali possono essere gli interventi futuri sulla risorsa, quindi sul superposto di crescita e eventualmente anche dare una revisione economica della posizione.